Oh! Sarà interessante! Sembra che necessiti di un piccolo aiuto, eh? Bene, bene. Cosa abbiamo qui? Prendi. Sempre a disposizione. Gioisci del tuo lavoro. Qualcun altro? No! 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 Trasmando la sua crescita. 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 Fa' attenzione. Una potente forza cerca di consumarla. Prego che tu e Chandris riusciate a liberarla da questa stretta. Qual è la tua preda? Colpisci con ardura. La sua crescita. 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 di salvare Tairande. Mi conforta vederti in questo strano luogo. Per il bene di Tairande devo chiederti aiuto. Ti ascolto. Considera lo fatto. Il naso è a veicolo. Altro segnale. Quali che siano gli orrori nella fauce, li supereremo. Fai strada. La fauce è ancora più orribile di come l'essere la prossima vita. Quanta oscurità, quanta angoscia. Non perdere la speranza. Non dobbiamo attardarci qui. Il luogo mostrato nella mia visione si trova più avanti. Vedremo se lì riusciremo a trovare delle risposte. La mia visione si trova più avanti. Non dobbiamo attraverare le risposte. Non dobbiamo attraverare le risposte. La mia visione si trova più avanti. È un po' di più. Non dobbiamo attraverare i risposti. Non dobbiamo attraverare le risposte. Non dobbiamo attraverare le risposte. No. Non dobbiamo attraverare le risposte. Come si può sopravvivere a questo luogo? Non perdere la speranza. Questa scia di morte dovrebbe portarci da lei. Questa scia di morte dovrebbe portarci da lei. Non ho un bersaglio. Mindor! Shang, perché sei qui? Mi serve un bersaglio. Mi hanno guidato i miei soldi. Siamo venuti a salvarti. Piccola sciocca, non c'è modo di lasciare questo luogo. Ma puoi unirti a me. Per sempre. Non troverai mai la guerriera della notte! Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Questo regno cerca di ingannare i nostri sensi. Continuiamo a muoverci. Vedo una scia di cadaveri più avanti. Quanta oscurità, quanta angoscia. Non dobbiamo attaccarci. Se tu segui il fiume, io ti coprirò le spalle dalla riva. Speriamo che la vera Tyrande ci aspetti più avanti. Non dobbiamo attaccarci. Mindo, lascia la pauce con l'uomo. Prima che il potere della guerriera della morte ti ha niente. No, non finché la nostra gente soffre a Dorias. Distruggerò quella torre e con essa la fesce. Il mondo sanno. Qualsiasi male ce l'ha con il mio torre stia cercando Tyrande. Non dobbiamo lasciare che lo affronti da sola. Non posso permettermi di perdere le sue tracce. Ci incontriamo più avanti. Non dobbiamo attaccarci. Non dobbiamo attaccarci. Non dobbiamo attaccarci. Come si può sopravvivere a questo luogo? Non perdere la speranza. Non dobbiamo attardarci qui. Seguimi a Torghast. Dobbiamo sbrigarci. Non dobbiamo attaccarci. Quanta oscurità. Quanta angoscia. Non perdere la speranza. Altri mostri uccisi. Tyrande deve essere più avanti. Min Dov. Nessuno mi fermerà. Mi serve un bersaglio. Non ho un bersaglio. Mi serve un bersaglio. Aspetta. Vi sono in un bersaglio. Non è un bersaglio. Non conoscerà che nulla le sparre il cammino. Dobbiamo farci strada verso di lei. Mi serve un bersaglio. Grazie a tutti. 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 Vendetta per Teldrassil! Altre anime da tormentare. Il loro tormento finisce ora! Erelun, puoi portare in salvo queste anime! Il demon è vulnerabile! Affattilo! Oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dolore, sofferenza, nessuna speranza. Le anime dei caldorei, distorte in questa mostruosità. L'obbligo sarebbe un destino più clemente. Non c'è pace nella morte. Crucia con noi. Abbandonati dai dune. La sacerdotezza. Perdonateci. Non c'è altro modo. L'abbè, il signore ha vinto. Tutta la vita consumata. Silvanas non vincerà mai. Lo giuro. Vendica... Deldra, Sil. Vendicaci. La pain si proverà cento volte. La sofferenza che avete provato voi. Mildo, vieni con noi. Possiamo lasciarci alle spalle l'oscurità della pauce e riportarti verso la luce. No, la mia caccia non finirà finché ogni anima non verrà salvata e la Benshi risponderà dei suoi crimini. Il calcafauce è in grado di liberare i nostri fratelli e sorelle dal loro tormento. Se quel che dici è vero, allora affido questo sacro compito a te, discendente di Tentrasil. Salva le anime della nostra gente. Mentre io mi vendicherò, so chi le ha portate qui. Ti prego, calcafauce. Usa il cristallo che hai con te per salvare gli spiriti di questi caldorei. Almeno queste anime dei caldorei sono state liberate. Per la prima volta da tempo sento nascere la speranza. Come si può sopravvivere a questo luogo? Non dobbiamo tardare. Quanta oscurità, quanta angoscia. Non perdere la speranza. Non abbandonerò mia madre. Ma per ora dobbiamo aiutare queste anime a trovare la pace. Vieni, lasciamo questo luogo. Vieni, lasciamo questo luogo. Vieni, lasceremociones. Vieni, lasceremo. Vieni, lasceremo. Vieni, lasceremo. Vieni, lascia. uscranno. Come posso esserti utile? 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 Il mio lungo sonno è terminato. Non manco mai il bersaglio. Che la Dea vegli su di te. Come posso esserti utile? Come posso esserti utile? Come posso esserti utile? Come posso esserti utile?